Non ci vuole la mano, aspetta No, non ci vuole la mano Bella ragazzi, siamo in live? Siamo in live? Vedi? No Dai Tanto siamo in live Ma che ne sai? Vedi un attimo Perché c'è un endo perdo? Come lo ucciso l'endoma? Lo ucciso l'endoma Ah, usi la creative ragazzi, usa la creative No, no davvero Lo ucciso l'endoma, usate l'endoma Ah si, bufo Non ci crede nessuno, aspetta Vabbè Ok Guarda ti ho fatto pure il letto quando giochiamo Offline Guarda Ah, grazie Madonna C'è C'è per farti capire un attimo Oh, chiamano Se no vuoi chiamare Come si chiama? No, no, no No, no Grazie Grazie Si mi è arrivato Ah, ok Comunque Ragazzi Ma è morto di No, non è arrivato Aspetta Vediamo se siamo di mezzo Ok Perfetto ragazzi Siamo in Lives Non c'è nessuno Ma Ma dillo a quest'altro Giuseppino Giuseppino? Giuseppino 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 Giuseppe Oh, ho sentito un Enderman Qualcosa Oh, ma che che Pronto Giuseppe Buonasera Ah, spera No, scherzo ancora Ok Allora, cosa sta Allora, che caglio è? Allora, che caglio è? Allora, che caglio è? L'altro no Non rispondi Non rispondi Ok, oh my fucking Oh! Ho paura, pensavo che non ero giù Bene, Giuseppino Rispondi Ragazzi, siamo da solo in live Molto divertente Come l'altra volta Ragazzi, da due minuti Wow, una cosa incredibile Ragazzi Perché le hai fatti bianchi, grigli, retti? E falli un colore più bello No, rispondi Perché non rispondi Perché non rispondi Aspetta, la cuffietta La mia cuffietta Sì Questa è la mia Allora, non sto spostando la sua Però Per me Pippo Baldi Così ti danno il copyright Perché Pippo Baldi è uno famoso No, mi banno uno proprio Come hai detto tu Ragazzi, è incredibile Ho detto un sacco di cose ieri E non ci hanno dato il ban Wow È incredibile Ma ti sistemi l'inventaggio Perché è un enderpearl Due semi Una spada Tre alberi Un piccore Perché lo fai con slab? Perché non tengo Il legno E vallo a prendere C'è una foresta vicino a casa tua Sì 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 Non mi piace Zero commenti Molte argomentazioni C'è una licea la porca tua Già io l'ho detto Allora scrivelo L'ho scritto su whatsapp Che ca... Ti spacco Ti spacco Grazie Ok Così c'è una capata ciascuna Aspettate ragazzi Torno subito Uccidiamo l'asino Perché siamo intelligenti E dov'è? Ragazzi Ragazzi Lasciate il dislike Perché Pietro Ammazzai asini Certo Immagini minecraft nella vita reale Tu io non accettano L'ho ucciso Un asino Che ca... E' ieri Domani Francesco Antonio Antonello Francescano Sì Se tu ti chiami Francesco Antonio Antonello Beh Per Per Buono Anche prenderlo Sono un'anticapata Oh Toi un attimo la cuffia Toi un attimo la cuffia Aspetta subito I'm sorry Io non lo sapevo Quindi youtube Non mi Da ricoprire Vai ragazzi Demonetizziamo questo video Così quei quattro centesimi Neanche ce li vanno più Non ti pagheranno Ma chiuso Oh oh Let Let Mi ho fatto uscire Ragazzi Un pro player Di minecraft Ma voi mi state rientendo Cioè Gravier Spostati Ah non lo dovevo dire Forse Gravier L'ho detto due volte Ma che cacchio è Sto Gravier Gravier Ho detto tipo Ma Tiene 400.000 iscritti Ma Ah che bello Ah sei anche sparato qua Bene Trip piccolo bimbo Quanto sta la roba Adesso tutto di nuovo Ti riprendo tutto Lenzo Vai muore ragazzi Muore due volte in live Me ne vado eh Vai scheletro Tipo per te Vai scheletro Ce la puoi fare scheletro Quanta vita Pochissima vita Vai scheletro Scheletro Nooo Dai no Dai scheletro Perchè Eh ma è lei Dai un altro scheletro Suo scheletro Qua sta qua Dai ragazzi Oh forza Creeper Mi credo Credo in te Creeper Credo in te Creeper Creeper sta Dio C'è del ferro qua Gli sta merda Monterci dove Vai Pichiamo un Creeper con uno Bravo Vai che muore ragazzi Un cuore e mezzo No due cuori Vai ragazzi Uno scheletro ed è morto Uno scheletro ed è morto Io gioco Dai ragazzi uno zombie da dietro Vi prego Ma tu ma Sei pure persa No 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 Vai scheletro Ma sei proprio ciecato quella scheletro Dai Vai 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 Sei morto due volte là Io devo mettere il titolo Rick Bait Lo esco in diretta Tipo quel peggeno Ragazzi vai Ma c'è un altro scheletro Ma perché non dormi in tutto questo Perché io gli trovo la mia roba Ho capito ma dormi e poi la vai a trovare A meno di un giorno non ti sparano i mob Ma cosa c'è? Che è sta cosa poi che casa è Non è neanche finita Perché? È una chiesa No io tenevo 30 Ah no ok 30 Non ho niente 30 diamanti poi mi dici Ma non tenevi neanche il ferro Sì Non tenevi neanche il ferro Come le avresti i diamanti? Mi sono andato a tuo occo A Brook Wines Sono andato con X-Ray Chi è? X-Ray La X-Ray Almeno dillo bene a X-Ray La X-Ray è una mod Lo sai vero? No Eccolo Sì vai ragazzi Ho trovato tutto però Ho rotto l'ender per le piccole No l'enderman L'enderman Ragazzi c'è un enderman Quindi morirà Oh non porta Vai 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 c'è anche una mini zombie Con la spada Eh ma questo è sfido È troppo stupido Sto mini zombie Minizombi Minizombi No No Stai fermo? No Dovete andare addosso Brutto cognome Che non sai altro Vedi che viene lui da te Scemo Basta Sto mini zombie È troppo stupido Nuve farm Fatto Ma che c'è? Uno spammer qua sotto No Io non me ne va Io non vado Zio e di che gli spada Possono stare anche le ceste Con un sacco di roba Eh ho capito Però c'è uno spada Di mini zombie Di zombie Perché nello spada Di zombie Possono spanare anche I mini zombie Per tua informazione Gratti Ho trovato tutta la mia roba Ma tranne il piccone Yeah Ha perso il piccone E invece no Sto qua Che palle Oh manager C'è anche il ferro Ragazzi Un altro mini zombie Ma lo uccida Scherzo No Se ti uccide un altro mini zombie Me ne vado Seriamente È uno spammer Allora Non me ne vado Se ti uccide qualcuno Allora Bravo Vedi l'entra Tira La vai Così La spraghi pure Già Lo trovo Un mini zombie Davanti Lo ammazzo Lo ammazzo E per tutta la roba No Ma vaffanbrode Vai Ma cade Ma cade Ragazzi Vai Ma fa un pillar Di 13 blocchi Cade il muore Vai Ma chiama sto tizietto bello Ma non risponde Cacami Messaggio Io devo chiamarlo per il tuo canale Fammi capire Allora Lasca un attimo Lasca un attimo Dal mondo E non io Siamo in live Fammi capire Ragazzi Ragazzi se Raggiungiamo meno like Pietro chiamai in live Ok Lascia un like Che chiamai in live Non c'è nessuno E tu lo lasci Ragazzi a zero like Abbiamo già raggiunto i zero like ragazzi Possiamo chiamare Ma che vuoi chiamare adesso No io Lo chiamo Scusate ragazzi Scherzo epico in live Ragazzi lo potevamo chiamare Cazzarola Dovevamo mettere scherzo epico in live Bisavamo anche visualizzazioni Cazzarola Si può dire? Sì Ah ok Se mi incidenzo No Cazzarola Stavo chiamando mia mamma Pronto mamma Ah ragazzi così Vedete anche il suo numero Così Se loro hanno visto il suo numero Ma lo possono chiamare Raga Perché sta tutto da casa No ragazzi No no Ti prego Ti prego Chiudi la live e richiamalo No Chiudi la live e richiamalo Ti prego No Ti prego Chiudi la live No Adesso tu fai quello che ti dico Chiudi la live Non posso Ragazzi A zero like Pietro Chiudi la live e richiama Giuseppe Wow ragazzi No Ti prego Zero like Dai chiudila un attimo Quella riprendi Che fa? Poi vedono i nomi Noi vedo Chiudi un attimo la live Poi va direttamente su youtube a me Si è salvata direttamente E poi non posso fare a parte Fai due live Eh beh Due live e due dieci minuti Cazzarola Quale è un isch Come le è un isch due live? Fammi capire Videoshop Eh ma le live Madonna mia Perché mi sono Un altro mondo Ah seguiteci sul nostro canale principale Manca tutti i teffi Ok Ragazzi iscrivetevi Se non lo fate Questo canale è brutto Questo canale è brutto Ah ma non cadere Scusate ragazzi Dai ti prego Ma non fa niente No Ragazzi lasciate dislike mi raccomando Cos'è vuoi fare? Che detto? Niente La pizza è buona Oh quella è bella Ecco giù La pizza è buona Mettiamo su I'm low with coco Vai ragazzi I'm low with coco Ditero tutti Così ti danno il copyright Ma non fa niente Ma non fa niente Non c'è niente No 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 Basta Isnia Non sai che è un paese Ti danno il copyright L'Isnia L'Isnia È un paese No me ne forno Isnia 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 Hanno pure una religione diversa Loro sono Sono indù Loro sono napoletano Io tengo un fratello Non è vero Si chiama Si chiama Jim Zwan de Frank Che non lo tengo Però lo tengo Ragazzi Mio fratello invece Si chiama Jim Zwan de Frank Questo è il suo nome Ragazzi Però Per gli amici A carabou du 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 Ci accade Questa No No Bravo Bravo Si ragazzi Chiude la live In diretta No Non dare il mio numero Che me ne vado Sei boccato il mondo Che cacchio è Esterno Che mi chiami Live Wow Tu sei per là Rispondi Non mi stai Ah in arrivo Cosa stessa Cosa stessa succedebbe Oh vedi che siamo in live Raga Sto in live Pronto Giuseppe Alza la sonneria Pronto Giuseppe Ci sei Non mi fa alzare Un attimo solo Un attimo solo raga Un attimo solo raga Non mi buce Bravo scassa il telefono Ragazzi Pronto ma Si è bloccato il telefono Perché rimane sempre a 12 secondi Ragazzi dai così Si è scassato il telefono Noi ci vediamo Nel prossimo live Il telefono si è rotto Ciao ragazzi Ti deve sbloccare Ok Pronto Pronto Mi sente Pronto Giù Aspetta un attimo Niente Se vuoi lo diamo Con il telefono Ok Aspetta E' mortacci tu Ecco Riaggancia Non si riaggancia Ragazzi Siamo ancora in live Non siamo più in live Si Abbiamo riagginato la live No Siamo sempre in live Mortacci da te Da quanto stiamo in live? Da zero live Ah dico Da quanto tempo? Da 14 minuti Che è successo? Niente Ho messo anche Ah Se non funziona Ma Ah ok Ah ok Lagga anche Minecraft Ragazzi Batteria scadime Io lo tengo In carichi Sghieri Sghieri